Un pensionato di 76 anni di Milano ha perso il controllo della sua automobile a causa di un malore danneggiandola seriamente, andandosi a schiantare ripetutamente contro altre vetture in sosta e la cancellata del parcheggio della farmacia di Rovetta. L'automobile impazzita, come l'hanno definita alcuni testimoni, ha urtato quanto ha trovato sulla sua strada procedendo anche in retromarcia. Alla fine il veicolo si è schiantato contro il pilastro della cancellata. L'uomo è stato soccorso da un'equipe del Corpo Volontari Presolana e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Locatelli di Piario. A bordo dell'auto c'era anche una donna di 73 anni, portata anche ella in ospedale per lo spavento. Per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Presolana.